Buonasera a tutti e benvenuti nella sfida fra me e Valerio a FIFA 18 ovvero Commander Io utilizzo il mio Manchester United e lui il Chelsea Il vertice basso del rombo di centrocampo dovrebbe fungere a tutti gli effetti da schermo davanti alla difesa e far ripartire l'azione Vediamo la formazione di partenza del Chelsea Madonna Ha sbagliato una buona occasione Che occasione sprecata questa Dopotutto il buon lavoro Tiro respinto ma la palla è ancora in gioco Prova la botta Prova la mano blocca Balla ancora in mezzo La mette in mezzo Le difficoltà su questo cross Balla su tre spinge Buon bata Madonna Grandi riflessi Blocca il pallone stavolta Nooo Sei andato in panico Quattro occasioni Dove è il cavolo da lanci? La pronostico la parola ora passa al campo Moses Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone E c'è subito dunque caccia di punizione David Luiz Occhio cerca l'area di rigore Hazard Allontanano il pericolo Recupera la palla Intercettando bene il pallone Pedro Interrompono bene l'azione E io gioco stando zitto Rashford Blinder C'è spazio per andare Nessun problema Nel portiere Chelsea che può attaccare Norma del vantaggio Pedro Salda l'uomo Pedro Hanno trovato il gol del vantaggio Vedremo come cambierà il match Da vedere se proveranno a spingere Per farne un'altra Ogni volta dico che è importante essere ciniccia a questo gioco Hai fatto un tiro Hai fatto un gol È così eh Io ne ho fatti 5 Ma non è entrata Quella è la differenza Nicky Tarjan Possesso per lo United Contrasto eccezionale Cahill Eden Hazard Fermano la malattia avversaria Bay Lee Fonmata Rashford Hanno metri a disposizione Matic Nicky Tarjan Occhio a Lukaku Eccolo lì Il pareggio Il loro spirito di battaglia Nel gol che vale il pareggio Loro non mollano Partita bellissima Equilibrata Combattuta Penso che anche il pubblico Sulle tribune E quello a casa Si stia Divertendo oggi Avevano già creato A diverse occasioni Da Ritner Tanto Pischia il pallo Contro il Manchester United Eh sì Cante Occhio al giocatore del Chelsea Ma quelle robe qua Meno male Non ha trovato la porta Per una questione di centimetri Decisivo qui l'intervento del difensore Che ha impedito all'attaccante Di concludere comodamente a rete Intervento tempestivo del difensore Che intaccetta il passaggio Hazard E c'è la parà Arriva la segnalazione Che ferma il giocatore Tutto solo verso la porta L'azione spettacolare Deve essere vincente Ma è giusto fermare il gioco Valencia Passaggio intercettato Lukaku Buona Spazio in avanti Servito bene Michi Tariana E gol Cambia dunque il risultato Col gol del vantaggio Adesso Ovviamente potrebbero trovare spazi In contro Piero e Stefano E questa Piero È un'analisi tattica perfetta Condivido tutto quello che hai detto Eric Michi Tariana Vicenzi è sotto nel punteggio Occhio alla Zan che avanza Maragni a metri Dove vuoi andare? Michi Tariana Guarda il mio Lukaku Guardalo Guardalo Mannaggia Eh te l'ho capita C'è la frateria per andare E sono tre Sono io cinico adesso Ti ha segnato Matta E vedi come balla Matta Tentare di segnare Devono fare attenzione A non subirne altri In tre zan Non facile per quanto si è visto finora Portiere decisamente fuori posizione In questa circostanza Grandi responsabilità su questo gol E sono d'accordo E sono d'accordo Pier Si è concesso una gita Fuori porta Picnic È stata cara La sua squadra Tutto fermo Si era liberato bene Ma sale Alta La bandierina Le guardaline Ha fermato un'azione spettacolosa Pallone interessante Eh Attenzione a Morata Palo a Morata E c'è il gol Palla in rete Non molla il ragazzo Eh Morata si Vabbè 3 a 2 Dai 3 a 2 Partita molto spettacolare Phil Jones Non mi è mai finito un primo tempo Con così tanti gol Possesso per lo United C'è un buon anticipo Kante Eh Perché? Ah E sono 4 Sono 5 Stasera sono spietato Ho detto Stasera sono spietato Eh Sono 4 No Ottimo intervento difensivo Bene qui il difensore Ha chiuso la linea di passaggio Prova addirittura la conclusione Vediamo tutta la sua disperazione qui Mamma mia che occasione questa Non so Non so È il tocco di testa Marcos Alonso Esatto Arbitro che dice che può bastare 4 a 2 11 tiri a 5 11 tiri a 5 Beh tu sei stato cinico Più di me Hai avuto Quell'attimo iniziale Di panico Di quei 5 tiri È stata bellissima Quella scena lì Però Con la traversa Puoi ancora recuperarla Dai diciamo che Puoi ancora farcela Ma cos'è che l'ha scritto Pierre Che così quando rivede il video Sente È tutto pronto Per inizio del secondo tempo Qui ad Old Trafford Bel passaggio No Beh Fiff è più completo C'è l'intervento del difensore Che spedisce il pallone In out Rimessa battuta velocemente Hanno provato a sottr Lukaku Col tocco filtrante Se ripartirà dal rinvio Del portiere Dal fondo Cosa ha fatto Non lo so Lukaku Di Kitarian Occhio a Lukaku Madonna Che traversa Cosa ha fatto Mamma mia Da paura Occhio al traversone Courtois Con i pugni Allontana Perde palla C'è il movimento Senza palla Ha evitato Un possibile gol Cesc Fabregas Il tocco profondo Di Fabregas All'interessante Per Hazard Hazard Cuore di nulla Eh l'hai detto anche te L'hai detto Che telecronista Mi ha copiato La propria corsa In fondo alla rete Juan Mata Avanza Mkhitaryan Mkhitaryan Palla che sorbola Di poco La traversa Guarda L'idea di scavalcare Il potere Con il tocco sotto Era giusta Per me Ha esagerato Un poco Con la potenza Finendo per calciare Alto Palla deviata Recupera dunque Per gli avversari Matic Punta l'area Mkhitaryan La delusione Sul volto Per quella che poteva essere Una buona Questa era Questa era fuori Ha recuperato il pallone Senza difficoltà Prova Palla fuori Ci sarà corner Per lo United Questo Lukaku mi piace Eccolo lì Ancora 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 Lukaku È proprio un caco Questo Perentorio Non si mette Di testa Ho visto la testa Proprio guardiamato 5 a 2 Un colpo di testa Vincente Gli sviluppi Di questo calcio D'angolo Va tutto molto bene Per altri Fin solito Non dovevano Marcare meglio L'autore del gol Sta avanzando Ha perso il pallone Interrompe bene L'azione Intercettando il lancio Gran palla per Mata Buon patta Madonna Buon passo Dal gol Che sarebbe stato Quello della tripletta Oggi è insaziabile Pier Occhio al giocatore Grande contrasto E' stato fermato Dal difensore No Quelle cagate qua Palla recuperata Azione interrotta Occhio a Zard Che avanza Non giocare da Zard O Zard Fa il bravo Occhio Si libera facilmente Del marcatore Troppo facile Andargli via Mkhitaryan E' piccolino Si apre lo spazio Guarda che c'è lui Morata Ottimo davvero Nei technology Nikita Ariane Questo è rosso Per il portiere E' da posizione interessante E' rosso Che culo Ha morito dunque il portiere Non l'ho zappato No E' arrivata una zappa sotto le gambe Non ci sia da chi Però Cioè Colpa sua che Ci ha fatto ritrovare una zappa sotto le gambe Guarda faccio tre cambi per tua contentezza Dai Però Lukaku lo tengo dentro Pensa Non ho attaccanti di ricambio Ma No non c'è Ibra Aspetta Aspetta Valencia No Mata Vai Così Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre Fortissimo Nikita Ariane Lukaku Trova da casa sua Centra in pieno il difensore Buono il pallone recuperato Morata Palla vagante Martial Fammata Eccolo il buco Madonna l'ho vista dentro E' un vero peccato Non riesce a fermare l'attaccante Troppo più forte di lui in questa circostanza C'è un buon anticipo Se passava Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio Possesso per lo United E finalmente c'è una bella parata Deve aver avuto un moto d'orgoglio Che c'è Valerio? Con questa palla E punta la porta Mkhitaryan Buon patta C'è stata la deviazione provvidenziale E sarà dunque corner Filo della baglierina corto La mette in mezzo con questo pallone Ripartono in campo aperto Chelsea che può attaccare Norma del vantaggio Morata Punta l'area Occhio a Fabregas Attenzione a Fabregas da lì Grande parata Grande riflesso Super qui il bocchino Avevi la parata Tutto pronto per la battuta De Gea Non rischia Va di pugno Siamo ormai negli ultimi minuti Difficile Che possano esserci sorprese Possibilità di contropiede Martial Lukaku Mkhitaryan Madonna Anche il bersaglio Poteva essere l'occasione Per migliorare il proprio score personale Avrà modo di rifarsi Se continua a giocare così Ha perso il pallone Attenzione a Mata E sono Shea Con un regalo Tripletta di Mata E' una distanza profondissima Quella che separa le due squadre Hanno perso parte Juan Mata Ci sono metri a disposizione Contrasto riuscito Palla che rotola via E lo farà Eh lo farà Occhio a Mkhitaryan Cerca la rete Stilo respinto Ma la palla è ancora in gioco Possibilità per la ripartenza C'è spazio davanti a sé Mkhitaryan David Luiz Dai che è finita ragazzi E' finita Ed ecco l'arbitro che fischia La fine del primo set Ragazzi 6 a 2 Bella questa Eh hai perso 6 a 2 Primo set E' finito Eh si E' finito